un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori appassionati di Formula 1 e di F1 in generale benvenuti ad una puntata live di F1 in podcast live. Presento subito il mio ospite, ciao Matteo, benvenuto. Ciao Giuseppe, eccoci qua pronti per un'altra un altro post gara davvero bello pieno ci sarà tanto da parlare e è arrivato anche il nostro terzo ospite che oggi non faremo una bella chiacchierettina di copia ma c'è anche Mattia quindi ben arrivato Mattia. Ciao a tutti, scusate Riccardo. Eravamo appena in live e dunque siamo qui per discutere di un gran premio di Formula 1 entusiasmante. Ancora una volta abbiamo visto un gran premio old style, un gran premio dei vecchi tempi ma non solo Formula 1 anche MotoGP. Infatti Mattia ci spiegherà cose accadute in MotoGP e anche lì c'è stata una clamorosa gara che poi ha portato all'assegnazione del titolo. Quindi oggi parleremo, parleremo tantissimo sia per il titolo mondiale conquistato da Louis Hamilton e dal titolo mondiale conquistato da John Amir. E allora io andrei subito con la classifica, la classifica della gara che vede Louis Hamilton conquistare il titolo piloti, il suo settimo titolo piloti ma non solo anche questa straordinaria gara mh corsa sull'Istanbul Park. Secondo Sergio Perez, terzo Sebastian Vettel che ritorna dopo un anno sul podio e poi Leclerc, Sainz, Verstappen, Albon, Norris, Stroll e Ricciardo. C'è da dire subito che era una gara che era partita con altri pronostici quasi. Tutti altri. Tutti altri infatti. Sì, perché ieri avevamo assistito a una straordinaria pole position di Lance Stroll, il canadese, al di tutto un canadese dal 1997 non agguantava la prima posizione, no? In griglia non partiva al palo. E Stroll è stato sempre dominio canadese dei Villeneuve per quanto riguarda il Canada. E poi così. Io e poi anche padre. E Stroll invece ha in qualche modo sollevato le speranze ecco per tutti i tifosi del Canada ma purtroppo questa gara. Anche per una anche per una buona percentuale della gara perché stava andando via in scioltezza all'inizio davvero stava stava guidando veramente bene. Sì, sì. Diciamo uno Stroll diverso, no? Da da quello che avevamo visto il primo anno in Formula 1, nel 2017. Senza dubbio. Senza paura quasi, no? Quasi come se fosse un pilota di grandissima esperienza. Ma poi è accaduto per lui un qualcosa che non doveva accadere. Voi per la strategia della Racing Point, vuoi perché Stroll è ancora un pilota inesperto, no? Se lo paragoniamo agli altri e quindi i suoi sogni di gloria sono terminati lì. Fatto sta che un determinante, un aspetto importante da sottolineare è stato appunto la le condizioni della pista. Non solo per il bagnato che hanno condizionato le qualifiche di ieri, vedi anche le prestazioni della Ferrari, ma anche il modo in cui è stato riasfaltato e quanto tempo prima del Gran Premio è stato riasfaltato. C'è da dire che per fare chiarezza, dobbiamo dirlo per due ore di cronaca, che in Istanbul non si correva da tantissimo tempo. Non girava né la Formula 1 né altre serie. E questo ha creato non pochi problemi a organizzatori che hanno dovuto riasfaltare tutta la pista. Si sono anche, pare, confrontati con alcuni esperti italiani. La società italiana, di consulenza appunto anche dal punto di vista proprio ingegneristico e del mantenimento, del trattamento dei manti stradali ovviamente adibiti a competizioni, loro avevano confermato che un riasfaltamento così, un nuovo manto di asfalto così poco prima di una competizione ovviamente anche senza, come dicevi tu benissimo, altre categorie che vi possono correre quindi aiutare a far evolvere il prima possibile l'asfalto sarebbe stato una missione suicida perché avrebbe ovviamente portato a il rilascio nelle successive settimane dopo dopo la posa del nuovo manto di asfalto di sostanze ovviamente che servono nella fase di installazione. E questo è quello che obiettivamente si è visto e come se non bastasse anche dose imprevista di acqua. Quindi acqua più liquidi lasciati dall'asfalto che traspirava hanno creato un mix davvero che ha lasciato poco scampo ai giovani, perché vediamo che qua l'esperienza, salvo ovviamente per errori che possono capitare a tutti, oggi l'esperienza soprattutto sulla guida sul bagnato ha secondo me fatto la differenza. Quindi io ne terrai conto in ottica anche futura perché chi sa guidar bene oggi l'ha dimostrato, l'ha dimostrato e lo si vede anche appunto da come è andata poi a finire il resto della graduatoria. Tanti giovani, giovanissimi sono stati eliminati, infatti proprio gli ultimi sono Grosjean, Latifi e Giovinazzi, quindi comunque a parte ovviamente Grosjean però i giovani hanno sofferto tantissimo. E anche il più eclatante caso appunto di ingenuità, se voglio già anticiparvi, Verstappen. Verstappen fino a oggi secondo me aveva in mano una gara davvero bella, poteva rifarsi, ma già da ieri secondo me dopo le qualifiche ha avuto forse non un blocco ma un sovraccarico di foga. Quella foga che il Verstappen degli ultimi anni, delle ultime stagioni aveva quasi dimostrato di saper mettere da parte in virtù di una maggiore lucidità alla guida combinata con il suo talento, la sua aggressività nella sua monoposto che gli dà la possibilità di spingere. Oggi siamo tornati quasi più a un Verstappen che con la foga, la voglia di recuperare subito si butta dentro a testa bassa senza guardare cosa sta facendo e infatti anche guardando dalla grafica è uno dei pochi insieme a Kimi che ha dovuto effettuare tre soste e quindi quattro treni di gomme, cioè da quanto le ha stressate, da quanto anche con gli errori finendo più e più volte anche da solo in testa coda ha usurato le mescole e ovviamente arrivare sesto con tutti gli errori che ha commesso dimostra quanto a Milton Keynes abbiano davvero sviluppato una vettura molto buona e pregio io devo dire oggi secondo me ad Albon che anche lui nei suoi errori, nelle difficoltà oggi la Red Bull si intraversava molto facilmente rispetto ad altre vetture, secondo me ha guidato nel complesso meglio di Verstappen commettendo meno errori, ovviamente il risultato non è molto diverso però di base secondo me oggi Albon non ha commesso tutti gli errori di Verstappen e la classifica in un certo senso un po' lo premia. Fammi essere anche un po' cattivo al riguardo, forse oggi abbiamo capito che la Ferrari ci ha visto bene nel scegliere nel puntare tutto su Leclerc e non magari su un Verstappen. Perché? Perché a parità di condizioni Leclerc ha sbagliato di meno, ha sì commesso degli errori, l'abbiamo visto all'ultimo giro quando ha commesso l'errore secondo me, non degli errori, proprio l'errore ne ha fatto uno e l'ha pagato. No, ha pagato effettivamente tanto, invece Verstappen ha commesso tanti, quindi questo dimostra che paragonando il livello dei due piloti, forse Leclerc adesso può essere un passo avanti a Verstappen. E lì viene fuori anche proprio, secondo me, il carattere anche dello stesso pilota, perché ovviamente ragionando sulla carta, Verstappen ha più anni in Formula 1 di Leclerc, quindi dovrebbe saper gestire ormai meglio il cosa vuol dire questo mondo e questo ambiente, soprattutto anche nelle fasi concitate di gara. Cosa che Leclerc ovviamente per deficit di anni non dovrebbe ancora avere, ma forse l'attitudine al lavoro e alla freddezza che o ce l'hai o non ce l'hai, sì la puoi coltivare negli anni, però è anche lì una dota innata, il saper ragionare in modo lucido anche quando le situazioni si fanno avverse. Secondo me il lavoro di Leclerc è stato qualcosa di costante per tutta la gara, a metà gara, a inizio gara aveva qualcosa come 50 secondi di distacco da Stroll quando guidava ancora lui il gruppo di testa e stava scappando via. Dopo una ventina di giri era già sui 30 secondi di distacco, quindi aveva già quasi dimezzato il margine dal pilota davanti, pur rimanendo ancora, ricordiamo, nelle retrovie perché ha avuto una partenza con l'inserimento dell'antistallo, quindi davvero una partenza difficile, cosa che invece Kimi furbamente il giorno prima si era preparato più e più volte a fare, perché i veterani sanno cosa vuol dire partire sul bagnato e sanno quanto è delicata la cosa, i giovani sono stati un po' beffati, se si vuole dire così. Forse Stroll ha stupito in partenza perché è riuscito ad avere un buono spunto, male le due Red Bull e subito Hamilton è riuscito un po' a sopravanzare, ma il grande davvero lavoro per eccellenza che è stato fatto al Via è stato quello di Sebastian Vettel che con una guida pulita non ha commesso veramente lui alcun errore, strategia secondo me è anche giusta da parte degli ingegneri Ferrari perché due soste era la cosa secondo me ideale, è stato un azzardo quello di Hamilton e Perez che può portare a affondare come a vincere e quindi a rimanere davanti, in questo caso sono avuto il loro la meglio, però la strategia di Vettel e della Ferrari è stata la giusta e quindi sono pienamente d'accordo con la scelta di, votato da tutti e anche io mi aggiungo a questa opinione di pilota del giorno Sebastian Vettel che torna a podio. Sì, sicuramente anche a mio avviso è il driver, cioè è stato il pilota che è stato lì ad attendere. Non ha sbagliato, non ha sbagliato nulla Hamilton ha sbagliato, c'è da dire, però è anche vero che forse la strategia della Ferrari può essere sindacata, è vero che col senno di Miles, il senno di Polo si vingono le gare e non vogliamo fare l'ingegneri del lunedì, però è anche vero che Vettel a un certo punto senza quel pit stop poteva trovarsi davanti a Hamilton. Poi può darsi che Hamilton ha passato in pista, non lo sappiamo, ma è anche vero che forse la Ferrari poteva sperarci in più e non l'ha fatto. Vuoi anche per il semplice fattore che in Ferrari sanno quelli che sono ancora oggi i limiti della vettura. Può essere anche quello. Con i loro calcoli avranno visto che gomme troppo usurate avrebbero reso magari praticamente inguidabile la vettura e comunque, ripeto, secondo me questa era la strategia giusta da fare perché ne aveva Sebastian Vettel e anche le Clerc erano tra i pochi ancora in pista che riuscivano comunque a rimanere su tempi stabili senza avere un crollo di performance e anzi a guadagnare sui piloti davanti perché è un giro ancora e già Vettel è arrivato in fotofinish con Perez, quindi sul dritto col DRS lì l'avrebbe passato. E l'Eclerc avrebbe potuto ancora di più rifarsi sotto come aveva fatto nel giro, nell'ultimo giro, nelle ultime curve dove però il suo unico errore è stato proprio quello di arrivare al bloccaggio, finire leggermente lunghi a seguito ancora delle vie di fuga bagnate perché la pista si era un po' asciugata ma nei punti di frenata alla fine le velocità sono basse e non permettono di spingere più di tante quindi di sollevare grandi quantità di acqua, si parla di 80 litri al secondo per le full wet e di circa 30 litri al secondo per le intermedie che ovviamente vanno a diminuire man mano che le gomme si usurano avrebbero potuto fare davvero secondo terzo posto. Eh, coi sei coi ma però non si vince. Secondo me io rimango dell'idea che col senno di poi è stata la scelta giusta quella della Ferrari che nel complesso ha pagato. Se non con l'errore... Sì, volevo leggere una domanda di Giuseppe che ci scrive, secondo voi la Ferrari non poteva differenziare la strategia, magari facendo fare il pit stop all'eclerc con relativo cambio gomma e far restare Fettel in pista con Hamilton visto che le intermedie danno benefici solo per pochi giri. Io sono d'accordo, cioè secondo me Fettel poteva restare in pista e perché a un certo punto la gomma intermedia si poteva garantire qualche qualche chance in più, no? Perché Hamilton alla fine ragazzi anche se i tempi non erano come quelli di Leclerc che l'aveva affettato del pit stop ma Hamilton usciva a stare in pista regolarmente. Poi non c'erano condizioni climatiche al limite. Però Bottas con le stesse con gomme anche un pochino mi sembra più fresche comunque stesso setup della vettura invece non girava sempre con le gomme intermedie. Quindi cosa vuol dire? Lì bisogna capire se era bravura di Hamilton oppure condizioni favorevoli. Guardando tutti sembrava quasi più Hamilton l'eccezione più che quello da seguire. Cioè sembrava l'unico che riusciva a girare su dei ritmi buoni con gomma finita intermedia. Mentre gli altri con anche gomma più usurata, anzi meno usurata quindi gomme nuove e vedevamo che continuavano a girarsi. Quindi non lo so sicuramente poteva avere il vantaggio Sebastian sul lungo termine della gomma più fresca di un 2-3 giri. Perché all'inizio Hamilton si è riuscito subito dopo dopo la sua sosta a riattaccare subito a Vettel perché aveva gomma già usurata di un 2-3 giri. Quindi era più facile che avesse grip, non doveva arrodarsi ecco sull'asfalto che era la parte difficile in questa gara. Nel ringraziare Paolo per il tuo sarcasmo, volevo... Paolo è il migliore, uno dei nostri redattori più simpatici ecco per rendere partecipi anche voi. Volevo parlare di un prossimo, di un altro argomento. Intanto c'è un'altra domanda di Francesco che ci scrive è stato forse uno degli GP bagnati più difficili per Hamilton, molto lento sulle HET e tuttavia ha vinto. Che dire? Eh sì, effettivamente... Ha vinto con Vettel che è entrato ai box e Albon che si è girato da solo. Diciamo che il fattore fortuna lo assiste sempre ecco, però oggi secondo me ha dimostrato che il suo ce l'ha messo. Se si vuole parlare della macchina che è la migliore, stiamo a dire sempre le solite cose. Se vogliamo dire che la fortuna lo assiste, stiamo a dire sempre comunque le solite cose perché bisogna essere anche fortunati per vincere. Però guidare comunque con le gomme usurate e mettere in dubbio allora tutte le strategie fatte anche dagli altri vuol dire avere un talento. A maggior ragione se altra gente con gomme nuove, cioè palesemente non semi-sleak perché alla fine erano piatti quelle di Hamilton al traguardo, o era lui che era in grado di fare qualcosa o hanno sbagliato tutti. Però mi sembra difficile considerando che comunque i tempi di Vettel e Leclerc stavano migliorandosi. Quindi è stato veramente bravo lui a gestire la gomma al limite. E la fortuna ha retto che comunque non sono esplose ma le gomme intermedie e comunque da bagnato secondo me hanno una struttura molto più rigida e quindi è difficile portarla allo stremo anche perché comunque è un altro tipo di mescola. Cioè non stiamo parlando di gomme d'asciutto ma da bagnato avranno magari delle costruzioni magari più ad hoc per gestire meglio i litri che devono spurgare ovviamente da tutte le scanalature e potrebbe essere una domanda interessante da fare anche a Mario Isola per le prossime volte. Se tra gomme d'asciutto e da bagnato c'è magari al di fuori ovviamente del battistrada qualche altra peculiarità proprio dentro nella struttura del pneumatico magari componenti, materiali tra i vari 200 e 300 che di solito costituiscono la struttura del pneumatico che fanno la differenza sul bagnato. Eh potrebbe, questa ce la segniamo. C'è, diciamo probabilmente, ho dato a Cesare quel che è di Cesare e dobbiamo fare il giusto tributo al titolo di Lewis Hamilton. Il settimo titolo mondiale piloti, un titolo che forse è stato quello più, credo più semplice, no? Perché se le guardi tutti uno dopo l'altro, ehm, diciamo Hamilton in passato ha ha lottato per titoli più combattuti, per campionati più combattuti. Sì. Pensare solo al 2008, no? Ehm, e Hamilton quindi arriva ad eguagliare Michael Schumacher che che solo eh diciamo anche in altre puntate solo eh qualche anno fa era impossibile da da immaginare una cosa del genere. Era impossibile. Vorrei coinvolgere anche Mattia in questo eh magari paragonandolo con altri grandi del passato, la MotoGP, ma prima voglio sentire la tua, Matteo, e e su cosa ne pensi di questo settimo titolo? E poi anche delle speranze future di Lewis Hamilton che sicuramente eh proverà a a a in qualche modo a rinnovare il suo contratto. Eh secondo me senza dubbio senza dubbio perché lui è l'ottavo titolo sotto sotto ci vuole arrivare. Sì. Eh diciamocelo, diciamocelo. Sei ormai a pari merito e lasci tutto così e e lascia i futuri Verstappen, Leclerc, la possibilità magari di raggiungerti e superarti. Eh non credo proprio. Io credo che la chiave di volta sarà il duemilaventidue. Poteva essere il duemilaventuno con le regole nuove, ma visto che le regole nuove entrano in vigore nel duemilaventidue, dovremmo aspettare al duemilaventidue. Se ci sarà un team che eh riuscirà a creare un dominio e quindi il buco nel regolamento, io ne dubito perché mh per quello che sappiamo, per quello che ci arrivano, per le informazioni che ci arrivano. Quello che abbiamo anche avuto modo di eh ovviamente seguire anche argomentare nei nostri articoli anche tutto l'anno. È che la FIA sta facendo tanto lavoro per cercare di eliminare le zanne d'ombra, soprattutto per le power unit. E e ciò quindi secondo me sarà appunto una un fattore di ehm di difficoltà, no? Per per i vari team eh e ci auguriamo che nessun team possa creare un dominio come quello Ferrari. Sin da subito. Belli. Belli. E e e e quindi io credo che Hamilton a mio avviso rinnoverà il contratto, almeno per un altro anno. Forse l'abbiamo detto a volte il suo rinnovo sarà in qualche modo collegato a quello che farà Toto Wolf. È anche vero. sì, potrebbe. Probabilmente il rinnoverà per un anno, probabilmente il ruolo di Wolf eh cambierà, non sarà più il team principal, ma forse eh diciamo ricoprerà un ruolo molto più prestigioso all'interno di Mercedes o Aston Martin. Però io devo dire adesso una cosa, adesso non me le non me le vorranno i tifosi di Hamilton, ma nei giorni ma forse anche già da un po' eh trapellavano le voci di questo rinnovo, no? E si parlava di un nuovo di 40 milioni. Anche dei budget cap proprio per i stipendi dei piloti. Era questa che era stata un po' la notizia, un po' scoop. Non solo per lo sviluppo della macchina ma anche per gli stipendi dei piloti. E qui Hamilton pare che abbia avuto dei contrasti perché Hamilton non vuole rinnovare a 40 milioni da quello che che sappiamo. Però io eh lo dico. O meglio una via di mezzo. Lui ne prendeva sui 50 e chiedeva almeno sui 50. Le regole sarebbero intorno sui 30. Lui diceva veniamoci incontro sui 40. Però tutto sembrava ormai essersi arenato. Cioè sembravano sempre voci un po' accantonate. Dico visto che ehm anche oggi lui ha dimostrato ancora una volta ehm di tenere tantissima quei temi calli come la perla dei diritti umani, l'ambiente. Il voler essere di ispirazione anche per per giovani ma non solo nel motosport ma un po' in generale nell'ambire al successo e dare il massimo per raggiungerlo quindi. Parlavo oggi di sostenibilità no? Che è un tema molto importante. Allora io dico perché rinnovare a questa cifra? Cioè non ci fai una bella figura. Non so se quella. Perché sembrava perché sembrava che fosse di nuovo tornato un po' alla carica per strappare più milioni. È difficile perché comunque uno non se lo aspetta da certe personalità o comunque secondo me allora indipendentemente da tutto è giusto che abbiano delle retribuzioni comunque alte non solo per il rischio che corrono è ma comunque perché obiettivamente si sa nel mondo dello sport in generale le cifre sono alte. Per loro è un lavoro è la loro fonte di sostentamento principale indipendentemente dagli sponsor ma quelli arrivano se sei in grado di attirarli quindi non stiamo a sindacare sul fatto che debba firmare oppure no dovrebbe fare l'ultimo anno quasi in beneficenza per dimostrare ancora di più che non è attaccato al denaro perché nessuno l'ha mai fatto e non dovrebbe essere lui. Potrebbe farlo sarebbe una cosa clamorosa però comunque non gli si può dire nulla qualora non lo facesse perché comunque è il suo lavoro e per ogni lavoro viene retribuito. Comunque sì è vero ha fatto un po' ha fatto un po' strano pensare che comunque vuole essere tanto d'ispirazione e poi comunque va a cercare sempre alla fine la cifra tonda sul contratto. Però non credo che questo vada a influenzare la sua figura anzi tutt'altro perché la sfera privata è una questione ovviamente il denaro poi diventa suo e solo lui sa cosa magari ha già in mente da nel nel futuro per campagne di sensibilizzazione fondazione potrebbe palesemente fa attenzione qua intanto terremoto problemi 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 quindi potrebbe benissimo fare tanto anche per i meno fortunati e quindi secondo me non si può giudicare una persona da questo non si può giudicare la sua attitudine il collegamento al denaro prima cosa non è corretto farlo seconda cosa solo basandosi su delle cifre bisogna vedere anche uno poi cosa fa e Hamilton si è sempre dimostrato molto attivo sotto tanti campi sotto il punto di vista dell'ambiente dell' integrazione dei più deboli soprattutto dei dei giovani che sono in difficoltà quindi non mi sentirei di dirlo sia fatto un po' scalpore però non è secondo me tornerà a destra notizie di secondo piano e a cui io non darei particolarmente rilevanza io sul rinnovo di Hamilton vorrei sentire l'opinione di Mattia e poi sentirei un po' della MotoGP no no ma prima volevo sentire ecco un suo confronto se si possono fare ecco tra Hamilton e un pilota della MotoGP che può aver vinto quanto lui ecco vai Mattia allora beh sul campionato sul mondiale di Hamilton secondo me non è stato neanche più semplice in quanto mi viene in mente annate come il 2014 totalmente dominate senza un vero e proprio scusate un vero e proprio avversario che li tenesse testa sicuramente non è stato il più semplice mi viene a pensare il 2017 il già citato 2008 su io vorrei dire una cosa sulla questione lì del rinnovo e delle spese secondo me lui fa bene anche a chiedere quelle cifre nel senso come fa bene nel calcio Cristiano Ronaldo a chiedere milioni e milioni di stipendio nel senso gli dimostra esatto ma più che altro il sistema economico fa valere la tua persona le tue capacità la tua il tuo talento tali milioni io faccio io sono non sono io a sbagliare chiedendo quella quella cifra semmai è sbagliato il sistema perché sicuramente 50 milioni per un pilota è davvero tanto ma come si dice chiedere è lecito esatto esatto ma se il sistema gli dice questo perché perché io devo devo rifiutare ma cioè è una critica che non ha senso perché chiunque esatto davanti a un'offerta i 50 milioni dice ma sì ma accetto con felicità su Hamilton magari io darei che io non sono una persona che adora la personalità di Hamilton su Hamilton se devo fare una critica magari la faccio più sul sulle sue campagne giustissime in favore dell'integrazione razziale di queste cose qua che sono tutte delle nobili cause ma poi va rimane a correre in una in una categoria che notizia questa settimana andrà a correre in Arabia Saudita in un paese se assolutamente senza diritti umani comunque con il qui ne ne rispetta ben pochi che non ha assolutamente rispetto per la figura per le figure femminili questo magari a messi suona un po più come poco chiaro cioè più che poco chiaro poco lineare nella nella sua personalità come si può fare la stessa critica anche della formula 1 perché black lives matter è entrata nella formula 1 con forza è stato appoggiato e poi pochi mesi dopo si arriva in Arabia Saudita indirettamente quello che è successo anche un po oggi l'emblema è il casco di Sebastian Vettel esatto e se vogliamo anche il fatto di colorare ecco la Mercedes di colore nero quando poi Mercedes sappiamo nel periodo della seconda guerra mondiale chi forniva le auto lì è un po una controtendenza cioè però lì si va si rischia di contestualizzare il tutto allora prima cosa parlo da studenti storia Mercedes forniva pochissimi mezzi all'esercito nazista era soprattutto volkswagen che era stata costruita apposta chiusa questa piccola parentesi storia che è giusto fare che è giusto fare se uno ha fonti certe né sicura è giusto dirlo perché se no si rischia davvero di dare informazioni sbagliate chiuso questo piccolo passaggio ma non si può assolutamente andare a fare un ragionamento del genere perché comunque 70 anni fa eravamo in un mondo totalmente diverso e anche se visto la situazione che era in Germania anche se il padrone della Daimler ai tempi si avesse detto no non ti facciamo non ti forniamo i mezzi anche lì sarebbe stato piuttosto stupido perché comunque sarebbe stata una commessa con soldi e soldi in un modo o nell'altro sarebbe la Daimler avrebbe fornito i mezzi non si può andare ad attaccare se dopo 70 anni una situazione del genere soprattutto se il gruppo non è rientrato a parlare di quel tipo di queste cose qua certo adesso chiudo perché stiamo andando fuori tema certo un'azienda che forniva i forni crematori che dopo 70 anni 70 anni no qualcosa in meno è andata a chiedere i coni a chiedere le spese al governo tedesco a quel punto tua azienda è giusto che ti becchi una critica perché con che faccia ti presenti a chiedere questa cosa i soldi per aver contribuito a un sistema di a un'azienda della morte perché di questo si tratta però è anche bello ecco nella storia voltare pagina adesso dare un aspetto diverso un po' di quello che è stato del passato insomma trovare qualcosa che può allora allora noi italiani ma quando saremo ma come diceva anche mattia saremo prima cosa fuori tema seconda cosa anche non è paragonabile cioè le si andrebbe a decontestualizzare si andrebbe a prendere degli elementi presi così a metterli tutti insieme a guardarli tutti contemporaneamente da un stesso punto di vista decontestualizzando l'economia si sa gli imprenditori guardano ovviamente al ritorno non solo in primis delle proprie industrie ma anche ovviamente di tutte le famiglie che lavorano in quel settore e quindi si rischia davvero di guardare di fare tutta l'erba un fascio partendo solo da un nome e poi come diceva mattia anche tra virgolette infondata perché faceva ben poco collegato a quello mercedes ma poi comunque adesso davvero chiudendo e poi passo al livello di al collegamento tra con il moto mondiale ma allora anche noi italiani siamo tutti dei fascisti e non dovremmo parlare perché abbiamo avuto il regime fascista non è non è non è una cosa che può essere sostenibile come ragionamento si andrebbe per luoghi comuni e la storia purtroppo è storia con tutti gli elementi positivi e negativi del caso parlando della moto gp allora parlando invece del collegamento tra emilton e magari altri campioni da moto gp ne parlavo oggi in privato con una mia amica che è appassionata di moto mondiale così e dicevo sì emilton ha trionfato sette volte spesso se non sempre con una macchina migliore spesso e volentieri senza un vero e proprio avversario quando li ha avuti forti li ha vinte nel 2008 con con glock che gliel'ha regalato di fatto nel 2016 è andato in crisi totale con con rosberg e anche nel 2017 ha avuto non pochi problemi in moto gp chi 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 nel moto mondiale non in moto gp in moto mondiale ha vinto tanti tanti titoli prima cosa si è dovuto andare a confrontare con diverse tipologie di moto diverse categorie diverse cilindrate avversari diversi non stili diversi diversi ma soprattutto gli avversari e le categorie cioè in formula uno cambiano i regolamenti ma nel dal 2007 ad oggi le auto si sono sviluppate sono cambiate ma il loro stile di guida e la guida in sé è rimasta identica in un moto mondiale tu adesso parlando del del moto mondiale al 2020 chi debutta in moto tre debutta in una categoria con moto molto piccole con poca potenza e che il grosso la cosa più importante sono soprattutto i sorpassi dati dalla scia in moto 2 si passa invece a una moto estremamente più potente con molti più cavalli si parla di un 6 700 di cilindrata rispetto al 250 della moto 3 con tanti tanti cavalli e senza il minimo aiuto tecnologico non c'è un un launch control non c'è non c'è elettronica ed è una moto che è come guidare le 500 di 20 30 anni fa e poi invece ma pompate non ma pompate non di poco esatto molto di più con una caratteria con dei motori che se non sbaglio i trai un po' se non sbaglio sono anche a v arrivi poi in moto gp e in moto gp ti trovi una cilindrata di 800 cavalli ancora più forti che soprattutto negli ultimi anni sta diventando una copia della formula 1 parliamo di ali ma quello cambia poco sul sistema di guida ma parliamo quest'anno di abbassatori del retrotreno cioè piloti che entrano in curva con un retrotreno più alzato e in uscita nel momento in cui danno gas vanno a toccare un bottone che gli fa riabbassare il retrotreno per avere un maggiore controllo cioè sono tre una sorta di drs no è come una sospensione attiva di fatto nel senso che va ad abbassare la moto quindi ovviamente la resistenza all'aria va a ridursi sul rettilineo quasi per avere un effetto scia maggiore no è dovuto non parlo da esperto di aerodinamica ma il sistema deve essere principalmente più per dare più peso al posteriore e aumentare la trazione e la stabilità della moto ah ok aprendo gas non rischia di aprire cioè si apre di meno la moto non parte il posteriore non rischi l'high side che è la famosa quando il posteriore parte esagerando il pilota viene sbalzato in aria e cade giù poi per terra rovinosamente ha tanti vantaggi il fatto è che sono tre sistemi di guida totalmente agli antipodi e un rossi un agostini i nomi che mi vengono in mente per primi non possono essere paragonati a senna a schumacher a hamilton a vettel e così via sono davvero due mondi completamente diversi possiamo fare un paragone io non sono un esperto ma magari tra un sette volte campione del mondo di formula 1 è un sette volte vincitore di le man quello possiamo ancora farlo magari soprattutto dei tempi recenti ovviamente non degli anni 60 quando si correva con le vetture praticamente della che adesso sono le gt le gt open se non sbaglio la categoria si chiama però nei tempi moderni magari un paragone moto gp moto gp le man si può fare moto gp moto gp scusate formula 1 weck formula 1 le man formula 1 dtm o wtcc wtcr che è stato magari lì si può fare perché comunque siamo prima cosa su quattro ruote non su due che forse è proprio quello il grande la grande differenza perché sulle quattro ruote i cambi di direzione sono praticamente statici per il bilanciamento della vettura in sé perché è solo lo sterzo fondamentalmente che sposta il bilanciamento da un lato all'altro della monoposto delle vetture mentre sulle moto c'è tanto lavoro anche fisico dei piloti ma cambia tutto cambia davvero tutto cioè le linee di non siamo quattro devi stare attento al punto in cui devi stare molto più attento alla frenata tu sbagli la frenata ne parlavo ne parlavamo qualche puntata fa sbagliamola di uno sbaglia una staccata in formula 1 ovunque su quattro ruote in discesa va lungo semmai bloccaggio e vai esatto è un flat spot esatto tu fai una roba del genere in moto gp rischi di cadere rovinosamente di farti anche male questo è un esempio con il rischio di essere magari anche investito dalla moto se è in frenata vieni sbalzato in avanti che poi è una cosa che poi avviene anche abbastanza spesso e per fortuna non crea grossi problemi poi vabbè dipende da le situazioni questo weekend il povero philip sala c'è caduto gli è arrivata è venuto a contatto con la sua moto ha avuto un versamento pleurico e ha saltato la gara e le moto 3 sono moto piccolissime cioè sono moto alla fine molto leggere sotto i 100 kg piloti a cui arriva addosso e piomba magari dall'altro dall'alto una una moto gp che è difficile da mettere in piedi con una persona sola non si fa niente dipende dai casi sta di fatto che non si può assolutamente paragonare una vettura un mezzo di locomozione a quattro ruote un mezzo di locomozione a due cioè non è davvero sono due cose diverse se no se no esisterebbero le gare miste ne sono sicuro le gare miste moto auto se fossero molto più simili ci sarebbero ma non non sono fattivi io mi avete lanciato un assist quindi a questo punto parlerei di tecnica Matteo so che è un argomento molto caro e tu c'hai da sottolineare alcuni aspetti importanti anche in ottica prossima stagione quindi ritorniamo con questa breve parentesi sulla tecnica a parlare di di formula 1 vai Matteo sì esattamente infatti innanzitutto vedendo anche i valori appunto del dell'analisi che ho fatto nel pomeriggio dopo dopo la gara della speed trap vediamo come quello che dicevamo in precedenza abbia avuto senso cioè le clerk e anche vette il comunque hanno avuto un passo gara nel complesso sottolineato anche dalle velocità raggiunte buono in queste condizioni di pista davvero estremamente scivolosa tant'è che le clerk è stato anche la speed trap il secondo più veloce ricordiamo la speed trap è posta in questo caso su questo circuito esattamente in staccata dopo la la seconda zona di rs quindi proprio in questo punto e cosa dire si vedono tante cose si vede come un un fattore scia possa avere influenzato qui dopo che è stato soprattutto riattivato il drs quanto può avere influenzato un miglioramento delle performance in generale quindi verrà anche in un certo senso aiutato chi doveva magari difendersi aveva l'opportuna di avere qualcuno davanti a rimanere in scia ma secondo me oggi i valori delle velocità sono un po falsati perché abbiamo visto vediamo qua dalla grafica un bottas veloce ma che poi di fatto è rimasto inconcludente quindi qua gli unici valori che possiamo tenere in considerazione è la bontà quasi della velocità paragonata col setup perché una vettura che ti permetteva di spingere oggi in linea di massima aveva un buon setup poi stava il pilota davvero oggi fare la differenza cosa che seppur andando molto più cauto e vediamo anche le velocità appunto di emilton nella zona rossa di questa di questa tabella di confronto pur andando decisamente più più lento però il guidare forse oggi sulle punte dei piedi è quello che ha pagato cosa che ha fatto ovviamente anche vettel e se ci facciamo caso sono quasi più i giovani che hanno cercato di forzare l'andatura vediamo norris leclerc gasli verstappen albon cioè tutti i giovani oggi avevano quasi più il piede pesante quindi questo può essere anche indicativo un po dello stile di guida un po più dei giovani poi comunque leclerc nonostante nonostante questo nonostante il suo passo la vettura oggi sembrava davvero perfetta per lui e riusciva infatti a tratti ad essere anche il più veloce in pista anzi per diversi giri ha avuto il record di velocità e del giro più veloce sul tracciato dell'istambul park poi però di fatto in conclusione è l'unica l'unico suo grande errore è stato proprio in frenata dopo la speed trap dove era riuscito a passare in scia a perez poi finito lungo anche non aiutato nella fase di rilascio del pedale del freno dal fatto che fuori dalle traiettorie la pista fosse ancora molto bagnata e molto umida se non appunto oleosa a seguito del dello spurgo del dell'asfalto nuovo eh di fatti si è dovuto far superare sia da Perez che da Sebastian Vettel che in volata però si è affiancato ma non abbastanza per avere la meglio sul pilota messicano della racing point parlando appunto di tecnica abbiamo già ricordato più e più volte come ehm questa weekend non sarebbe stato presente Mattia Binotto Mattia Binotto che si è aperto anche poi in collegamento radio con le clerche durante il suo momento di sfogo davvero molto umano perché anche lì non è facile riconoscere quando a volte si sbaglia si pensa di essere sempre perfetti e intoccabili però le clerche come abbiamo visto anche più volte ehm si sfoga molto apertamente in primis con se stesso quando riconosce di aver buttato via un'occasione splendida per la squadra perché con le probabilità di dire esatto e sì esatto e avrebbe potuto fare un secondo e quarto posto che sarebbe stato sicuramente meglio di un terzo e quarto posto però indipendentemente da quello ehm direi che la gestione in generale della Ferrari questo weekend non sia stata per niente male su una pista molto difficile i piloti hanno guidato bene e hanno dimostrato comunque che eh il lavoro che stanno facendo in Ferrari nel lungo termine è destinato a pagare si spera che ovviamente anche questo fatto del non cambiamenti di regolamento nel 2021 ma posticipato al 2022 possa aiutare molto e Binotto Binotto si dice soddisfatto per quanto riguarda il lavoro che stanno facendo sul banco eh di test del motore lo stanno ovviamente ancora controllando rodando stanno facendo tutte le verifiche del caso e stanno lavorando molto bene anche con Shell per quanto riguarda le nuove formule dei carburanti per garantire efficienza del dell'erogazione della potenza ma al contempo anche garantire una buona affidabilità del del motore inoltre un'altra cosa che mi ero annotato che ehm ci terrei a sottolineare come la Ferrari stia lavorando molto intensamente anche per quanto riguarda sia lo sfruttamento dei gas esausti quindi nel sistema turbo nel ricircolo di questi gas sia soprattutto nella parte ibrida quindi quei cento dei famosi centosessantadue cavalli della componente ibrida sia dal punto di vista dell'MGU-H sia appunto dell'MGU-K e quindi circoliamo appunto al turbo e ai gas esausti e alla fase di frenata. Per quanto riguarda invece la struttura in sé delle del monoposto in vista dei vari weekend di gara Ferrari sta lavorando molto bene soprattutto sul banco dinamico e i settaggi che stanno trovando in combinazione con le modifiche che stanno portando soprattutto ai fondi fondi che cercano sempre più di limitare le turbolenze laterali perché adesso con un modellino che ho qua portata il grosso problema di Ferrari è ovviamente quando le infiltrazioni di aria raggiungono questa parte e l'aria laterale se riesce a in fase di accelerazione passare sotto la vettura qua crea davvero un crollo della downforce e quindi ecco perché molto spesso la vettura risulta essere instabile mentre con i nuovi fondi che hanno studiato limitando appunto le turbolenze anzi creando turbolenze qua nella zona laterale riescono a limitare le infiltrazioni di aria e di conseguenza ad avere più stabilità nella vettura quindi questo è il lavoro principale anche a livello aerodinamico che è stato fatto nelle ultime settimane tanto lavoro è stato fatto anche sulle barri di torsione per rendere la vettura più rigida e quindi più reattiva nei cambi di direzione quindi quello che dicevamo in precedenza con Mattia più rapida rispetto a quanto può essere una moto e anche più semplice da guidare nei cambi di direzione quindi nello spostamento del bilanciamento della vettura nelle curve e anche tanto lavoro sugli ammortizzatori olio gas sono stati rivisti c'è stato tanto lavoro nelle ultime settimane quindi sta cambiando molto di questa vettura lo dicevamo anche nelle nostre storie su instagram quando spesso vi interroghiamo per farci più domande possibili che noi cerchiamo appunto di sviscerare di andare anche ad analizzare nello specifico secondo me questi trovati insieme al lavoro che stanno progettando già in ottica 2021 per la nuova monoposto questi siamo già in una fase di transizione di sviluppi tra la sf1000 e quella che poi esordirà nel 2021 combinato con tutto il resto del lavoro che c'è da fare secondo me la ferrari l'anno prossimo sulla carta ha delle buone chance di rinascita visto che ormai è andato di fatto no che i progressi della ferrari sono positivi no io chiedo nel breve termine visto che tra 15 torni si va in bahrain e poi si resterà lì per un'altra settimana visto che poi c'è bahrain sakir sulla stessa sullo stesso circuito e tra 15 giorni corroneremo sul layout alla pista tradizionale e poi per il secondo appuntamento in bahrain con il layout che si assomiglia ad un ovale esterno esatto girano tutto attorno alla pista fondamentalmente più esterno quale prestazione ecco vedremo in casa ferrari dunque se guardiamo la ferrari di inso stagione la ferrari di quest'anno è l'anti ferrari dell'anno scorso quindi se una pista andava bene alla ferrari 2019 quest'anno non era cosa assolutamente per la ferrari 2020 quindi la sf 1000 quindi sulla carta considerando che almeno la prima gara è una pista molto veloce quindi dove il carico aerodinamico e le curve in appoggio la fanno da padrone se non poi i lunghi tratti di accelerazione sulla carta mi verrebbe da dire che le prossime due tappe non si prospettano per niente buone per la ferrari secondo me poi però mai dire mai perché comunque il lavoro sta pagando e di conseguenza bisognerebbe vedere la ferrari di inizio stagione con la ferrari attuale quanto è migliorata di sicuro non non si potrà pensare a una vittoria sicuramente la vittoria sarà difficile e l'anno scorso beffati da un problema di affidabilità del motore di Leclerc quest'anno penso sia davvero l'ultimo dei problemi perché è una pista di motore il Bahrain è una pista di motore è sempre stata vantaggiata dimmi chiede di quale pista stiamo parlando stiamo parlando del Bahrain sì sì esattamente del Bahrain poi questo già il Bahrain layout normale quello noto che usavano negli ultimi anni invece se si vuole poi aggiungere anche il fattore ovale quindi la seconda gara che sarà corsa in questa nel layout proprio più esterno tra le varie configurazioni possibili sul circuito nel deserto secondo me anche lì rimane forse ancora più facile andare forte perché se già su una pista con poche curve ma comunque grandi tratti di accelerazione il motore la fa da padrone non oso immaginare in una pista quasi più come dicevi tu a layout simile a un ovale quindi secondo me il lavoro al banco dinamico servirà molto per impostare un setup che nei limiti della potenza erogabile dal motore Ferrari di quest'anno possa permettere di sfruttare al meglio le scie e i tratti di accelerazione non so dire se potremmo vedere un Monza 2 quindi con vetture che rischiano veramente di andare dritta in curva come ha fatto Leclerc in parabolica per la carenza il deficit estremo di downforce vedremo vedremo se poi magari porteranno qualche appendice extra per generare in determinati punti della vettura o qualche ritrovato tecnico che possa migliorare il carico verticale in fase di accelerazione pur magari guadagnando qualcosa in termini di peso e quindi in generale in fase di percorrenza curva non lo so però non la vedo una situazione erosea per la Ferrari perché non è una pista da Ferrari di quest'anno fondamentalmente paradossalmente le piste più lente sono quelle che si addicono meglio alla Ferrari perché non avendo un forte motore che può spingere forse anche oggi è quello che l'ha aiutata in certo senso perché non avendo una forte erogazione di potenza il fatto di avere forse un motore più carente da questo punto di vista può averlo aiutato anche a guidare più pulito perché non avevi un'erogazione troppo aggressiva in fase di rilascio oltre che al saperla dosare bene e può essere anche quello un elemento che può aver concorso a una buona risalita anche delle due rosse oggi che secondo me oggi hanno fatto un buon lavoro dimmi volevi aggiungere qualcosa sulle prestazioni una domanda una domanda tecnica ma una situazione come quella di oggi in cui comunque i motori sono stati messi comunque a dura prova perché comunque il continuare a far patinare le gomme non aiuta i motori andando essendo poi verso fine stagioni quindi con pochi team se non aditua nessuno non so bene non hanno più i gettoni per cambiare motore non c'è un rischio che andando su piste in cui il clima sarà comunque caldo il Bahrain principalmente ci sia la possibilità di trovare dei problemi ai motori motori magari depotenziati per andare un po in protezione sul sicuro e può essere un'incognita anche quello sappiamo che rasse l'ha cambiato proprio proprio la power unit infatti è il motivo per cui è partito già si sapeva che sarebbe partito dalla pit lane poi scelta di far partire nello stesso modo anche la tifi quindi probabilmente partire con gomma intermedia però subito pronta dalle termocoperte quindi hanno tentato anche questa carta giustamente in certe situazioni è giusto anche sperimentare può essere può essere che a questo punto fattori esterni quindi i motori davvero troppo usurati non abbiano dei crolli improvvisi potrebbe darsi sicuramente sanno dosare bene il tutto le varie scuderie e il fatto di avere anche una mappatura singola per qualifiche gara in un certo senso limiterà anche questo perché il dover trovare una buona mappatura per anzi mi corrego potrebbe in un certo senso incidere perché un contedire spingo tantissimo in qualifica e poi posso volendo andare conservativo in gara invece qua bisogna trovare il giusto compromesso tra qualifica e gara quindi potenzialmente sacrificare un po' la qualifica per avere qualcosa in più in gara quindi è giusto anche il ragionamento che dicevi tu mattia potrebbe essere e quello fa parte tra virate quasi più degli imprevisti tutto può succedere ancora se andrebbe a parlare dell'affidabilità come per le clerche dell'anno scorso che sul più bello gli esploso un pistone potrebbe essere potrebbe essere come a silverstone quest'anno che all'ultimo giro sono esplose le gomme ai piloti in testa secondo me però bisognerà vedere anche il clima sì è vero nel deserto comunque il clima è più o meno stabile per tutto l'anno se non con le varie escursioni tra giorni e notte bisogna vedere adesso il fatto di correre in bahrain così in là nel corso dell'anno cosa possa succedere se magari il vento può essere più o meno influente se le temperature le oscillazioni possono avvenire in modo più rapido o meno rapido se questo può avere dei risvolti sull'asfalto e secondo me può essere anche questo un po di fattori su cui sicuramente i team stanno cercando di prepararsi al meglio anche con lo studio al simulatore e ovviamente anche con le varie simulazioni virtuali sì ma quello che possiamo comunque assicurare che in bahrain anche se siamo in una stagione invernale fa comunque caldo perché certo siamo al deserto e quindi anche se le temperature un po più bassa e dovrebbe abbassarsi di più in serata però comunque rimangono sempre intorno ai 30 30 25 30 certo più che altro è se nel corso dell'anno ci sono delle variazioni magari nelle oscillazioni o nella rapidità con cui queste oscillazioni si verificano oppure gli spostamenti del vento e può essere un rimescolamento anche qui di fattori ambientali che più o meno si conoscono però magari in un anno praticamente di distanza possono possono alterarsi nel ciclo durante il ciclo appunto di alternanza delle stagioni siamo ormai all'ultimo argomento e convolgo mattia per parlare finalmente di modo gp e del titolo mondiale assegnato subito voglio dire che è bello senza marquez ora non so se voi siete contrari a questa mia affermazione però voglio sentire mattia e per quest'ultimo argomento di della puntata udirna vai mattia ma allora che possa piacere o meno chi ha vinto io penso che chiunque abbia seguito la moto gp quest'anno si sia divertito e abbia trovato un maggior divertimento una maggior passione nel seguire le gare rispetto soprattutto agli anni passati un anno senza marquez e un anno soprattutto dove non ha vinto il migliore perché bisogna dirlo apertamente ma mir non era il migliore nello schieramento è stato il meno peggio è stato sicuramente il più costante quello che ha avuto una moto che lo ha supportato di più che gli ha dato meno problemi di affittabilità ma di sicuro non ha vinto il migliore questo tutto ciò ha permesso di dare un campionato davvero molto 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 combattuto e che settimana prossima sperando che si risolvano i problemi dovuti alla zona rossa che si è creata in portogallo nella zona i porti mao nel caso si possa correre questo l'ultima prova speriamo davvero di trovare un ennesimo vincitore diverso un ennesima gara come quella di oggi estremamente combattuta questo è sul mondiale mir vince mir è il a 23 anni è il secondo più giovane vincitore di un mondiale nella classe regina lo ha battuto valentino lo batte solo valentino rossi riporta la suzuki a vincere un campionato mondiale nel moto mondiale dal 2000 l'ultimo era stato kenny roberts junior era ancora nella cinquecento quindi quando non era ancora arrivata l'epoca dei quattro tempi l'epoca dei cilindrate 1800 ed è come appena detto il primo campionato mondiale di suzuki nell'era moto gp è stato davvero una gara anche quella di oggi particolare in cui mir non ha però brillato l'unico il grande protagonista è stato morbidelli che è stato magari nel corso del weekend un po spento nel venerdì in cui ha lavorato molto molto bene molto in maniera molto precisa sul settaggio della moto e che poi nella giornata di sabato ha tirato fuori davvero gli artigli si è preso una ottima pole position ai danni di miller che è stato poi alla fine diciamo il grande avversario di questo weekend perché oggi miller parte un po' meglio di morbidelli si mette prima la prima curva però nel proprio nel nell'affrontare la prima curva va largo e da lì morbidelli si è messo davanti a si è costruito un buon vantaggio senza strafare mantenendosi sull'un secondo e due o un secondo ha contenuto soprattutto la risalita di miller che ha avuto una moto e che gli ha consumato molto meno le gomme e nell'ultimo giro quando si è arrivati davvero allo scontro finale con miller che si era definitivamente riportato su su morbidelli lì ha tirato fuori non non si è non ha fatto come verstappen non si è fatto prendere dal nervoso ha tenuto è stato molto calcolatore ha sempre trovato ha sempre lasciato spazio a miller dove in punti in cui poteva lui rispondere nella curva successiva incrociando le traiettorie agendo di più sulla sulla trazione e questo ha fatto innervosire miller che poi a verso metà 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 giro ha cominciato ha fatto un piccolo errore che poi ha aperto la strada a morbidelli mir è campione del mondo ma con una gara l'avevo detto davvero molto molto opaca lui è stato un per l'ennesima volta bravo a gestire la situazione ne ha approfittato soprattutto delle varie cadute ci sono stati davanti una su tutte quella di nakagami che si stava andando a prendere il podio attraverso con una staccata esagerata su pollo e spargarò che ha preso l'ennesimo podio per per ktm stava andando a prendersi l'ha chiesto troppo in curva è andato a frenare un po' troppo forte e con una chiusura dell'anteriore è dovuto è andato lungo ed è caduto è arrivato quarto rins e non ha potuto fare nulla è stato invece davvero deludente più che altro da no comment il weekend di quarta raro un venerdì di molto complicato opaco un sabato in cui grazie un po' dei colpi di fortuna perché è riuscito a qualificarsi per la seconda sessione di qualifiche per via della pioggia che non ha permesso a molti piloti migliorarsi è partito è partito undicesimo ma ha subito poi alla subito nel primo giro rovinato la gara alla curva due è andato lungo ha sbagliato completamente la staccata è caduto pochi pochi giri dopo si è andato poi a ritirare un termine di mondiale per quarta raro che probabilmente non si non si meritava per quelle che sono le sue potenzialità ci sono tanti dubbi riguardo a quarta raro anche sul sul mezzo su yamaha che va a vincere che ha vinto ha portato a casa più vittorie con la moto meno aggiornata che è quella in mano a morfidelli si tratta di capire che bello sì vabbè questa alternazione che non poteva mancare anche oggi era perfetta c'è da indagare c'è da indagare c'è da indagare mentre c'è qualche piccolo problema dico io un attimo c'è da capire ma perché non ha senso non ha senso come non ha il crollo della ferrari ieri in qualifica non ha minimamente senso quello che sta succedendo in yamaha da da molti anni e quello che sta succedendo alla fine anche a ducati ducati ufficiale è andata davvero in grande difficoltà dovizioso ha fatto molta fatica a entrare nella top 10 ha fatto molta fatica a superare una lake shespargero che corre su aprilia che tra le moto nello schieramento è sicuramente la meno forte e non ha e non ha senso il fatto che nella ducati arriva il secondo un miller che corre con una moto identica a quelle ufficiali ma lui arriva secondo le ufficiali fanno fatica a entrare nella top 10 petrucci oggi è arrivato quindicesimo se non sbaglio la yamaha è da così da anni le versioni degli anni precedenti funzionano meglio di quelle degli anni attuali nel frattempo abbiamo perso giuseppe esatto nell'attesa che si ricolleghi dicevo cioè yamaha è dai tempi di zarco zarco è passato il ktm l'anno scorso fallendo poi andando in ducati ma nei due anni precedenti quindi 2018-2017 zarco con un moto team clienti con una moto vecchia di un anno faceva meglio delle yamaha ufficiali questa situazione si è presentata anche l'anno scorso dove l'uniche l'uniche l'unica yamaha che andava bene era quella di quartaro si è presentata quest'anno ulteriormente con la moto di morbidelli quartaro faceva benissimo era molto più costante soprattutto in qualifica l'anno scorso con una moto 2018 quest'anno con una moto 2020 in qualifica specialmente ha molto deluso poi in gara è stato molto molto incostante probabilmente anche un po la pressione e che ha avuto sul perché lui ha scorso la prima gara l'ha vinta marquez si è rotto l'omero in quella gara lui subito ha avuto la pressione sul vincere il mondiale e per via di questa situazione di un mondiale molto equilibrato con senza degli explo particolari lui fino a due gare fa era in lotta per il mondiale anche se non vinceva se faceva fatica a entrare nella top era lì c'è sempre stato però era sempre lì perché è stato un mondiale adesso non ho fatto i calcoli non so quanti ma ha avuto un numero altissimo di vincitori tanto che mir vincitore del quasi una cosa simile alla formula e quasi un mondiale da formula e dove c'è un continuo ricambio di gente al vertice solo che lì siamo in una situazione di auto uguali sviluppo delle power unit minima e invece siamo in moto gp che è la formula 1 delle due ruote delle moto molto particolari infatti non ha vinto come ho già detto il migliore ma ha vinto il meno peggio il più costante l'ha vinto mir che ha vinto una sola gara e lo va e adesso te la butto lì mattia adesso te la butto lì e non si può parlare di moto come di auto quindi il paragone moto gp formula 1 non si può fare ma dello spettacolo quindi un mondiale moto gp come quello di quest'anno messi in formula 1 senza un emilton come te lo vedi o te lo vedi a dominio bottas o super giù sempre lì come te la vedere come la vedresti la situazione diciamo davvero che non stiamo parlando di mir quarta raro rins ed o vizioso ma stiamo parlando di vettel e clerk verstappen allora spettacolare spettacolare sono due sistemi di spettacolo molto diverse nel senso che formula 1 su 70 giri non può di non può regalare la le emozioni che ti dà una gara in moto gp come quella di oggi oggi c'è stato alla fine come in formula 1 c'è stato un giro con una bagarre seria c'è stato però molto interessata molto bella perché su 27 giri di gara c'è stato un continuo morbidelli e a otto decimi poi nel giro dopo miller riesce ad avere un qualcosa in più fa il giro veloce scendono a 6 su 27 giri ti appassioni ti vai a guardare ci dai attenzione su 70 giri non ci riesci anche se se esistessero questi se ci fosse una così tanta facilità di sorpasso in formula 1 come in moto gp che è impossibile da crearsi per anche motivi di spazio all'interno di una carriera ma anche se ci fossero non ci stai così tanto per i sui 70 giri allora è un continuo quante volte se avessero corso per 70 giri sarebbe stato un con sarebbe stato un 70 giri da guardare con gli occhi spalancati così e esaltarsi come un oggi si oggi si era un continuo eventi su eventi su eventi ma più che 20 su eventi che ci sono ci sono delle gare tipo quelle delle moto della moto 3 che è un continuo sorpasso e che per noi noi di redazione di moto gp scrivere le sintesi è una roba da pazzi sclerati perché tu sei a scrivere un qualcosa quindi è già cambiato tre volte dalla diretta di scrivere la striscia per premere invio e devi ricominciare da capo magari sul sul rettilineo finale sono state il gioco delle scie e chi era primo e magari è nono capisci quello quello se ci fosse in formula una situazione del genere sei fai 70 giri e sarebbe uno spettacolo meraviglioso per la moto gp no perché la moto gp i sorpassi sono molto minori è difficile vedere una gara con tanti sorpassi una un circuito che le regala è l'austria è il red bull ring ma non la moto gp cioè se la formula 1 fosse come la moto gp sarebbe molto più noiosa di quello che è la formula 1 perché non riuscireste a stare a dare questa attenzione su dei su dei distacchi pur togliendo anche solo emilton quindi avendo il top come markets fuori che non stiamo parlando di piloti qua stiamo parlando proprio di concept delle delle di tutto lo dello della sport in sé cioè la natura dello di quel della formula 1 la dinamica se la formula 1 fosse fatta su 25 giri facciamo un esempio di oggi tipo la formula 2 le sprint race le cosiddette sprint race esatto ma che solo una sì facciamo va bene una sprint race facciamo un esempio davvero estremo intanto forse forse giuseppe ci sta però adesso rispondiamo magari salutiamo anche i nostri ascoltatori perché stiamo andando davvero ci stiamo esatto stiamo tamponando finché giuseppe non riesce anche lui a fare gli onori di casa e salutarci tutti bene esatto stiamo facendo un po di bar sport esatto ci sta anche lui ci sta dopo aver parlato delle cose serie ci sta un po di chiacchiera una questione del genere è adesso perso un po il figo è allora sono magari 20 giri formula 1 una situazione come oggi con leclerc che macinava tempo risicchiava qualche tempo non ce la fa giuseppe allora non con se fosse stato un leclerc una gara di 20 giri che guadagnava qualcosa poi andava a perdere poi lo riguadagnava è ritornato eccomi eccomi eccolo problemi 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 esatto ci vorrebbe ci vorrebbe un effetto all'avanzini comunque adesso stiamo finendo stiamo facendo un discorso molto stupido super sintesi su cosa sarebbe una sprint race da 20 giri più o meno in formula 1 forse una roba del genere dicevo con leclerc che faceva da da elastico come è successo con miller e morbidelli oggi in moto gp sarebbe stato molto più bella perché su 27 giri dai molto molto importanza al ai tempi e ai distacchi su una gara di e anche la bravura nel ottenere tutto e subito perché leclerc ha macinato ma su 60 giri esatto in 20 giri arrivava comunque a 30 giri da stroll quindi quello alla fine lo si vede con la superbike che è un'ennesima categoria che tiriamo in ballo oggi che fa la super pole race che sono gare di 10 giri quindi con i piloti che vanno al massimo se ne fregano delle gomme perché intanto in 10 giri le gomme non le distruggi a quel punto non cambia intanto il comportamento semplicemente le dinamiche sono le stesse ma concentrate in poco tempo quindi leclerc quello che ha fatto in 58 giri oggi lo farebbe comunque in 20 giri perché non dovrebbe fare il pit stop le gomme dovrebbero gestire 20 giri lo farebbero senza alcun problema e allora vai ci vorrebbero delle gomme forse davvero davvero tanto più morbide per avere magari un briciolo di spettacolo ma comunque non si avrebbe neanche un degrado costerevole un tentativo di gare su circuiti ovviamente su un circuito che non può essere imola ma su circuiti che hanno una grande carreggiata mi viene in mente imola viene in mente monza io farei una gara sprint mi piace cioè da vedere è un esperimento monomescola tutti con le gomme più morbide è uno scontro all'ok corral alla fine perché di questo si puoi dare qualche parametro di riferimento cioè tutte le vetture devono pesare lo stesso lo stesso peso tutto massimo imbarcare lo stesso tot di carburante la situazione è come una gara da 60 giri su però il massimo del carburante la condizione delle gomme beh devi ridurre tutto ovviamente perché se no le emetture sono tutte pesantite in scala verrebbero fuori dei tempi pazzeschi pensate sarebbe eh sì è sarebbe una 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 ultra un'hyper soft che non so se tirelli le tiene ancora quelle gomme lì no adesso 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 medium e hard ma come compound di gomma devo controllare però i compound più morbidi dall'1 al 5 se non sbaglio potrebbe rientrare ancora allora vai facciamo comunque la c1 che è la più morbida giusto sì ecco fai una sì dalla 1 alla 5 esatto sì un compound c1 su una gara da 20 giri quindi in cui non devi fare neanche il salvataggio delle gomme qua e con un carico di benzina al alla partenza di 25 giri per avere sicurezza pensa che cioè secondo me a monza potremmo arrivare quasi sotto sotto al minuto quasi potenzialmente sì perché i giri veloci alla fine li si fa a fine gara con macchina scarica e gomme molto più dure anche dietro 60 giri anche te come pilota di sforzo fisico esatto quindi paradossalmente particolare sarebbero tutti giri da qualifica sarebbero tutti giri da qualifica se non di più esatto era un altro è stata una delle ipotesi una delle proposte si si parlava appunto anche di questo invece che fare proprio più gare gare sprint griglia invertita al che penso che i vertici top team si sono messi le mani nei capelli della serie cosa andiamo a finire bisogna parlarci chiaro non è fattibile a livello di formula 1 rendere un campionato in questa maniera però fanno degli eventi qualche evento potrebbero potrebbero farlo magari anche abituare i giovani potrebbe essere un idea e vascherà un callamailot molto bello le persone te le guarderebbero queste gare sono tutto in cista esatto dovremmo chiudere Giuseppe se tu ci sei salutiamo i nostri ascoltatori che ci hanno ascoltato tanto oggi quindi a te il fare gli onori ci senti e mi sa che Giuseppe non ci senti non lo so ci sta fissando intanto adesso ci senti ecco ci senti sì io ho scusato per i problemi di linea volevo chiudere da remoto però ha scoperto che devi essere dentro sì sì ti sentiamo pochissimo adesso si è saltato ti sentivamo allora io farei una cosa Matteo ah ok è dentro dentro ok è dentro sei rientrato allora dai chiudila velocemente perché se no non ci accadiamo prima che rischiamo allora io volevo chiudere la puntata salutando te Matteo e poi salutare anche tutti i diciamo i nostri ascoltatori che sono intervenuti in tantissimi Giuseppe Lamberti Pino Stagno Francesco Ghiloni e l'infallibile Paolo Mellone e quindi vi ricordo di seguirci su tutti i canali social Instagram Facebook Telegram e anche sul sito F1 in generale e vi diamo appuntamento alla prossima puntata che sarà per il dopo GP del Gran Premio del Bahrain ringrazio ancora una volta Matteo ciao Matteo è stato un piacere essere qui con voi anche con Mattia e grazie ancora di tutte le domande e ne vogliamo sempre di più e ringrazio anche Mattia ciao Mattia ciao Giuseppe ciao anche a tutti a tutti quelli che ci hanno seguito oggi allora vediamo appuntamento alla prossima puntata buona serata a tutti e grazie per averci seguito ciao a tutti ragazzi grazie grazie Grazie.